Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Al momento si registra traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale della Toscana. Sul raccordo siena a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiati in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa e tra San Casciano e l'allacciamento a 1 Firenze in Pluneta. Al via i cantieri della nuova variante Fortezza San Marco della Tramvia, che riguardano Piazza della Libertà, Piazza San Marco, Viale Lavagnini, Largo Martiri delle Foibe e Viale Milton. Per interventi di RFI che riguardano il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme, circolazione sospesa tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!